Buon tornato Shemdon! Non sapete che piacere mi fa sapere che fra poco vi vedrò dal vivo e potrò saltare? Non come facciamo una volta, che sennò mi faccio male. Mi sembra ieri che Olly mi ha chiamato e mi ha detto senti Fabri, ci sarebbe da fare il testo su questa canzone, mi immagino qualcosa che parli di radici, di soffitte, di vinili, di qualcosa di polveroso, di qualcosa di molto autentico, qualcosa che ricordi un pochino Tornatore, quei valori lì, e quando poi a un certo punto è nata a vuoto, mi sono emozionato tantissimo, quindi adesso non mi resta che venirla a vedere dal vivo e esaltarmi ancora di più. Buon tornato eh!